Una partita che fino a quel momento non era messa benissimo per voi? Sono partiti molto forti, abbiamo cercato di controbattere colpo su colpo, è stato un gol in un momento un po' particolare della gara, è importante, ci ha dato quella sicurezza che forse nei primi minuti loro prestandoci molto alti sono un po', come si può dire, ci hanno cercato di mettere un po' in difficoltà, quindi sono contento. È stato un po' casuale, perché sicuramente non si può metterla a mezzo a tirare, alla fine è nata al set, meglio così. Infatti durante la partita tutti pensavano una sponda in mezzo, poi se la palla non finiva più, non finiva più finita. È stato un po' casuale, però meglio così. Ci hanno preso in giro i compagni? Sicuramente, anche perché faccio un gol ogni due o tre anni. In compenso, il tuo capitano e collega di reparto ne ha sferato uno che se andava dentro e veniva giù lo stagio in Ascella. Sì, infatti, ho detto, ho fatto una bella torsione, peccato, era una doppietta dei difensori, era importante. Volevo cogliere l'occasione per dedicare questo a quella mia moglie, visto che come ho detto ne faccio uno, due o tre anni, lo dedico con tutto il cuore. Ne parlavamo prima con il mister Apolloni, possiamo dire che questa è una vittoria molto importante anche perché sofferta, ovvero il risultato non rispecchia forse, soprattutto quello visto nel primo tempo, un primo tempo che si è chiuso 2-0, dove però è stato l'entigione quasi a sorpresa, se volete, a fare la gara con un Parma che faticava a prendere in mano il pallino del gioco. Un Parma che forse ha elementi di qualità come puoi essere tu o come Longobardi, che però hanno spostato l'argo della bilancia dalla parte vostra. Ma come ho detto, loro sono partiti molto forti, ma se andiamo a vedere, insomma, le occasioni nitide, c'è quella davanti a Zomer che ha fatto una gran parata, anche se devo essere sincero, non so se Messina era più basso di noi, però è passato tra me e Ale, io l'ho lasciato, mi è sembrato un metro e mezzo anche oltre me e Alessandro, non so Messina che era dietro, però, insomma, la sensazione è che proprio, secondo me era fuori gioco, ecco, lo devo rivedere, però, insomma, l'unica palla nitida che hanno avuto è stata quella, poi, insomma, ci hanno un po' messo lì, ma è anche normale, insomma, sapevamo che era una buona squadra, ecco, però abbiamo rischiato tantissimo, come ho detto, dopo abbiamo fatto questo volo e un po' siamo messi in carreggiata. Diciamo che proprio gli attaccanti, uno in particolare, che è Niftad, dell'altra squadra in settimana, aveva forse un po' caricato questa partita, dal punto di vista anche, non dico del nervosismo, ma della voglia comunque di fare bene, insomma, fratello Carelli, però non li avete praticamente lasciato vedere parte. Ma io, come ho detto, anche in altre situazioni, mi sono trovato dall'altra parte, normale, giochi a Nentigioni, con tutto il rispetto, avevo contro il Parma, spero che sia l'ultimo anno che il Parma venne all'interno a Brescello, quindi sicuramente è una partita importante, particolare, che forse la ricapiterà più, ecco. Senti, l'espulsione di Niftad era proprio un evidente fare una simulazione? Ma non l'ho visto, perché l'ho girato di spalle, però insomma l'arbitro è andato diretto, quindi credo, insomma, era dentro l'area, quindi un po' si buccava, ecco, come si è ambrato. L'Alto Vicentino si è visto interrompere la partita per il futuro dell'arbitro su 1-0, quindi dovranno ricominciare da 0-0 come nel regolamento della Serie D, è un piccolo vantaggio il fatto che debbano recuperare una partita di più rispetto a voi. Guardiamo in casa nostra, le partite sono tante, ancora non si può stare a guardare queste piccolezze, però vinciamo 1-0, ripartiamo da 0-0, è meglio, insomma, siamo contenti. Senti, non avete mai preso golli in trasferta, in casa solo su rigore, cosa vuol dire questo? Vuol dire che stiamo lavorando bene in tutti i reparti, come ripeto, anche oggi abbiamo concesso un'occasione niente, poi insomma, più in un po' non mi ricordo almeno. Va bene così, davanti stiamo facendo bene, c'entrano un po' bene, dietro bene, Zomer ha una palla importante a partita, fa la parata, questi sono buonissimi segnali per il campionato, anche per la crescita dei giovani, quindi davanti così. Proprio tu parlando della difesa, dei pochi gol subiti, hai detto, vabbè il Parma ne ha subiti 0, due li ho fatti io perché erano due rigori, diciamo che col gol di oggi siamo a 1, dai la differenzare e ti la passiamo. Facciamo 1-1,5 dai, 1-1,5, meno 1-1,5. Per te Ancona, Rimini, Parma, Serie D, ma tutte piazze straordinarie? Sì, no, tutte piazze straordinarie, anche Perusa è stata un'esperienza bellissima, insomma, tre anni lì quasi la scalata della D alla B, peccato per la semifinale playoff maledetta, però sono contento, sono stato fortunato a stare in piazza importante, questo è un sogno, quindi spero di riportare il Parma, io insieme ai miei compagni, alla società, a tutti, dove merita, che sicuramente non è nemmeno la Lega Pro, però un passo alla volta e con calma. Nel dire che forse è presto, forse ti sto anche suggerendo la risposta e quindi ti proibisco di rispondere così, tra virgolette, ma un Caccioli che ha giocato spesso in Serie D, quasi come se volesse, non dico se volesse rimanere in Serie D, ma volesse comunque essere il giocatore esperto di categoria che possa comunque puntare alla promozione. L'anno prossimo dovesse andare tutto come è, tu un tentativo in Lega Pro col Parma lo faresti? non puoi rispondere forse presto, te l'ho detto, mi spiace. no, no, non è forse presto, io credo che in questo momento è prematuro parlare, nel senso è normale, chi è che non vorrebbe rimanere a Parma in Lega Pro, forse per Spancio vorrebbe venire tutta Italia qua a giocare, ecco, per la società, per la piazza, per tutto, per la città che è bellissima, insomma, qui non manca niente adesso. io penso a portarlo dove devo portarlo, fare il mio lavoro quest'anno è cercare di portarlo in Lega Pro, poi dopo sarà la società, il mister, a fare le giuste valutazioni di tante cose. grazie mille.